Musica Benvenuti ad una nuova puntata Donne, legalità e società e in questa puntata parleremo di quello che è un fenomeno purtroppo sempre più dilagante dei maltrattamenti nell'ambito della scuola e per parlare di questo e per cercare di capire anche un po' quelli che sono i segnali che questi bambini mandano quindi che noi genitori possiamo comprendere abbiamo ospite l'assistente sociale Maria Cristina Auricchio Cristina benvenuta e questo è sicuramente un argomento anche difficile da trattare perché comunque spesso capita che questi bambini vengono traumatizzati all'interno di scuole e purtroppo altrettanto spesso capita che non sempre in tempi diciamo tempestivi viene poi scoperto questo maltrattamento quindi parlando di quello che è il fenomeno cerchiamo di capire noi genitori cosa possiamo fare per renderci conto se un bambino vive una situazione diciamo non felice all'interno di un ambiente scolastico Innanzitutto Angela ti ringrazio dell'opportunità che dai al nostro territorio ecco per quanto riguarda questa problematica diciamo che la prima cosa da fare è sicuramente l'ascolto bisogna sapere ascoltare i nostri figli e soprattutto bisogna saperli cogliere quei segnali che loro comunque manifestano il disagio comunque sicuramente loro lo manifestano ma lo manifestano attraverso ad esempio se diventano più taciturni se mostrano il disagio nel volere andare a scuola frequentemente magari dicono di avere mal di testa dicono di avere mal di pancia questi purtroppo sono tutti segnali che devono far capire a noi genitori che c'è qualcosa che non va che cosa si può fare? che cosa si può fare? quando si capisce che c'è qualcosa che non va? innanzitutto recarsi a scuola e cercare quindi di parlare con gli insegnanti perché il disagio può essere dato o dai compagni perché noi abbiamo anche molto spesso il fenomeno del bullismo quindi o possono essere i compagni ad arrecare un danno al minore o possono essere gli insegnanti stessi quindi cercare di cogliere, di capire lì dove dovessero essere gli insegnanti trovare una sinergia trovare un metodo, un modo insieme agli insegnanti per fare dei progetti all'interno della scuola e nel passato sia sul nostro territorio che su altri territori nell'Ebolitano abbiamo avuto questi progetti che servivano proprio ad arginare questo fenomeno e a far capire quale poteva essere la problematica se invece ovviamente è più difficile far emergere la problematica quando ce l'hai con l'insegnante anche perché molto spesso quando si parla di maltrattamento non necessariamente dobbiamo pensare ad un maltrattamento fisico anche perché quello lascia i segni quindi difficilmente un insegnante fa un qualche cosa che può lasciare un segno fisico quello più chiaramente subdolo che è più difficile poi da far emergere è la violenza invece psicologica che si ha sul minore ecco in quei casi lì ecco che è importante parlare con il proprio figlio cercare quindi di farlo aprire e pian piano, pian piano il ragazzo insomma riuscirà poi a darci delle però spesso Cristina non è facile perché si ci trova anche di fronte a bambini troppo piccoli quindi quando i bambini sono piccoli come ci rendiamo conto magari in un bambino di un anno di un anno che magari lo portiamo all'asidonido e viene maltrattato lì effettivamente risulta ancora più problematico perché fino ai tre anni io ho potuto notare questo diciamo che da zero a tre anni il bimbo chiaramente manifesterà manifesterà sicuramente dei segnali fosse anche che quando viene accompagnato magari il bambino piange magari ti lancia i messaggi in tal senso invece se è più grandicello già dai tre anni in poi i bambini parlano cioè può sembrare strano ma io dei colloqui che faccio ho molta più difficoltà a fare un colloquio con un bambino di 13-14 anni con un adolescente e non con un bambino di 6-7 anni quelli parlano tranquillamente e poi io sono convinta che all'interno della scuola vanno fatti dei progetti dove magari si svolgono delle attività extracurricolari con delle figure specifiche quali ad esempio con lo psicologo con il pedagogista questo perché nel momento ludico i bambini tirano fuori di tutto quindi parlano sia delle problematiche che vivono in famiglia sia di quelle che hanno presso la struttura e oggi infatti sempre di più in moltissime scuole troviamo questa figura nuova dell'opiscolo che anche quando noi andavamo a scuola non c'era assolutamente quindi oggi invece ci sono questi diciamo incontri con dei ragazzi più a rischio però io sa cosa penso io penso che già il concetto ragazzo più a rischio non lo condiviti no no perché ho potuto constatare che magari sono tutti i nostri giovani a rischio perché tutti quanti noi siamo un po' troppo distratti da tante altre cose quindi i nostri figli li stiamo un pochino troppo abbandonando davanti a un computer anche troppa libertà forse anche troppa libertà e questa e questo è un qualche cosa che non va a loro favore perché la troppa libertà non li fa sentire protetti è un po' come in una stanza buia se non c'è il muro è il muro che ci dà il riferimento noi dobbiamo diventare il muro dei nostri figli se non c'è chiaramente non hanno guida non hanno nulla però stavamo parlando ritornando invece ecco io vorrei un attimo soffermare su questo concetto che tu hai espresso perché è un concetto interessante che io condivido oggi oggi infatti la figura del ragazzo che potrebbe avere delle difficoltà è cambiata perché mentre nel passato si pensava magari ad un ragazzo che poteva crescere in un ambiente magari dal punto di vista economico si è disagiato dal punto di vista pure dei rapporti all'interno della famiglia insomma non buoni oggi non è così cioè un ragazzo una ragazza può essere come dire un ragazzo con un problema anche se si trova a vivere in un ambiente in un ambiente cosiddetto sano sì perché purtroppo sono ragazzi veramente lasciati troppo a se stessi e l'eccessiva libertà il non avere una guida e non avere e non saperci più sedere accanto ai nostri figli e magari parlare anche di una sciocchezza anche quella è importante perché loro ci provano a parlare con noi però se noi abbiamo sempre il nostro tempo è talmente ridotto al lumicino e siamo convinti che io non sono neanche convinta che è più importante la qualità del tempo rispetto alla quantità secondo me ci vogliono tutte e due le cose quantità e qualità bisogna vivere il quotidiano con il proprio figlio quindi magari magari mangiare senza la televisione accesa magari chiedere perché poi alla fine ai ragazzi se chiedi come è andato loro ti rispondono tutto bene e che cosa hai fatto oggi non ho fatto niente quindi questo è il massimo della conversazione che penso che ognuno di noi in tutte le famiglie così tranne per i più fortunati tranne per i più fortunati che però insomma e questo è veramente saperli stare a fianco e magari creare degli hobby insieme costruire qualche cosa insieme e loro in quello e poi notare anche le sfumature cioè più che di quello che ti dicono osservare il come te lo dicono se continuano ad avere cura della propria persona cioè capire i segnali di allarme ci sono sta a noi adulti poi avere quella capacità di saperli quindi cerchiamo di dare proprio una tipologia di questi segnali tu ne hai accennato qualcuno hai detto quando un ragazzo che magari è un ragazzo vivace socievole comincia ad essere invece tattiturno qualcosa è successo quindi questo sicuramente è un primo segnale quale potrebbe essere un altro segnale che noi genitori possiamo captare sicuramente oltre oltre questo se loro diventano che non riescono più magari frequentavano prima degli amici poi smettono di frequentarli poi magari cambiano completamente le loro abitudini se hanno meno cura del proprio corpo c'è anche una maggioristilità a volte hanno anche un'aggressività diventano aggressivi ma sicuramente si diventano più aggressivi quindi significa che loro a loro volta l'hanno subito hanno subito qualche cosa perché stranamente chi ha subito qualche cosa tende poi a far rivivere la stessa condizione la far rivivere al proprio compagno che gli è più vicino non è aiutare i nostri figli a crescere veramente non è un compito arduo e secondo me oggi lo è ancora di più perché loro hanno una maturità diversa hanno più input però in tutti questi input comunque loro alla fine si sentono anche molto spesso forse più solidi rispetto a come ci sentivamo noi tu hai accennato prima al bullismo è un altro fenomeno questo che purtroppo si sta diffondendo possiamo vedere anche su internet tantissimi video anche tra ragazze cioè le ragazze che picchiano ragazze ragazzi con ragazze è diventato diciamo veramente un fenomeno preoccupante e anche perché a volte questo eccessivo comportamento stile poi che si ha nei confronti dei propri coetani può trovare terreno fertile in un ragazzo debole e sono successi anche insomma anche dei casi poi estremi quindi è un'altra forma contro cui anche i genitori devono in qualche modo fare i conti si devono sicuramente fare i conti però io penso che l'ottimale sarebbe una forma di collaborazione il genitore con la scuola con l'istituzione scolastica cioè la scuola nella scuola stanno la maggior parte delle ore i nostri figli ed è lì il terreno più fertile dove possono succedere questi fenomeni ed è lì che bisogna andare ad operare io credo molto nella figura del pedagogista sarà forse perché ho avuto la fortuna di avere una collega che ha tanti anni di esperienza che è una persona insomma molto molto capace quindi ho potuto constatare l'importanza di questa figura secondo me in ogni scuola dovrebbe esserci un momento dedicato diciamo fare dei progetti nelle attività scolastiche durante le ore delle ore curricolari perché bisognerebbe capire bene la dinamica all'interno della magari un insegnante non se ne rende conto della dinamica che si è formata all'interno del gruppo attraverso il gioco attraverso delle attività invece un pedagogista è capace di rendersi conto di quello che sta succedendo e quindi di andare poi ad operare ad intervenire io credo molto in questo insomma nella gestione del gruppo nell'avere questa capacità di queste figure professionali che riescono ad entrare proprio nella scuola e gestire il gruppo cos'è secondo te una cosa fa diventare un ragazzo un bullo io penso che sia una persona trascurata penso che sia a sua volta una persona che è stata praticamente abbandonata dalla propria famiglia quindi è una reazione è un chiedere aiuto il bullo secondo me è una persona debole che sta lanciando dei messaggi e dice mi dovete aiutare perché c'è qualcosa io mi sento solo mi dovete aiutare anche il maltrattamento spesso è un qualcosa che tu hai subito e che poi fai sempre il pedofilo purtroppo è una persona che a sua volta ha subito nella maggior parte dei casi nella maggior parte dei casi ci sono proprio dei chiari segnali ad esempio nell'abuso ci sono dei segnali che lanciano quale può essere ad esempio un minore che inizia a masturbarsi la masturbazione è un chiaro sintomo di abuso sessuale così come il piacere o il voler dare piacere a una persona dello stesso sesso è perché a sua volta lui ha dovuto dare piacere ad una persona dello stesso sesso è quasi sempre così io non di tutte le persone di cui me ne sono occupata non era mai successo che loro però non è detto questo non significa che è un'equivalenza non necessariamente chi è stato abusato poi deve necessariamente abusare però gli segna la vita e poi deve fare tutto un lavoro su se stesso per non sentirsi colpevole di quello che gli è successo perché loro si sentono sono convinti di avere fatto loro un qualche cosa che ha attirato l'attenzione di chi ha abusato tu in tutti questi anni che operi qual è stato il caso che ti ha colpito di più c'è stato un caso in particolare che proprio ti ha sì è una minore che sto seguendo adesso è una bimba piccolina che ha tre anni ha subito molto probabilmente un abuso e sicuramente ha subito un abuso e la madre è complice di questo abuso da parte del convivente della madre io sono stata allertata dalla famiglia diciamo della minore da altri familiari pur non avendo visto nei segni dei lividi ho ascoltato solo il loro racconto io ho fatto comunque la segnalazione in tribunale perché non è una frase mia questa è una frase che io ho letto vicino a un bambino abusato ci sono sempre tanti adulti ciechi io non ho voluto essere cieca io non sono mai cieca preferisco prendere una cantonata e non diciamo trascurare magari un elemento un eventuale abuso andiamo a verificare poi se devo pagare pago anche però intanto io se ho il sospetto e purtroppo fino adesso non ho dovuto mai pagare significa che ho sempre purtroppo visto giusto e come mai secondo te si verifica questa complicità da parte una mamma che voglio dire è quella che ama di più i suoi figli io ancora ancora non sono riuscita ancora non sono riuscita a capirlo perché ho fatto miliardi di colloqui con questa madre che però non lo ammette ovviamente ma ci sono tutti i segnali cioè la bambina lo racconta lo dice cosa è successo che cosa non te lo so dire come cosa è scattato ho provato anche a scavare nel vissuto e nel passato della madre perché ho pensato che forse la madre ha subito qualche cosa potrebbe anche essere il fatto di a volte può capitare della paura di perdere poi l'uomo che sia accanto io sono giunta a questa conclusione probabilmente sì che quest'uomo che è accanto è diventato talmente importante per lei che lei non sa fare a meno di quell'uomo a discapito della figlia e chiude gli occhi sulla figlia pensando che sia una cosa superficiale in realtà è un trauma profondo per si parli di una bimba di tre anni e poi a tre anni si porterà dietro sicuramente per tutta la vita penso che mi rimarrà negli anni insomma nel cuore anche perché ho promesso alla papà di questa bimba che oggi non c'è più che avrei comunque seguito il percorso l'avrei aiutata la figlia quindi al di là della professione lo continuerò a fare io ti ringrazio Cristina grazie a te dell'invito Angela e tutti quanti i telespettatori lo appuntamento alla prossima puntata grazie a tutti